Esercitazione la scorsa notte a Ventimiglia, dove intorno all'1.30 di notte nella stazione è stata inscenata una situazione di emergenza. È stato fatto scattare l'allarme per la fuoriuscita di ossido di etilene da una cisterna difettosa di un convoglio proveniente dalla Francia e diretto a Genova. Data la pericolosità del gas estremamente infiammabile ed esplosivo se mescolato all'aria, la Prefettura d'Imperia aziona immediatamente un piano di soccorsi che coinvolge vigili del fuoco, RFI 118, protezione civile e forze dell'ordine. In pochi minuti il piano di sicurezza viene messo in atto. I vigili del fuoco sono i premi a intervenire, evacuano la stazione di Ventimiglia e si recano sui binari, dove è in sosta il convoglio per individuare e arginare la fuoriuscita della sostanza pericolosa. Con loro anche i tecnici di rete ferroviaria italiana. Nel contempo il personale sanitario del 118, insieme con i volontari di Croce Rossa e Croce Verde Intermedia, si occupano dei feriti. Sono tre, tutti i passeggeri di treni che si trovano nelle immediate vicinanze del convoglio merci. Nello stesso momento il vice prefetto Davide Guerra avverte il centro di coordinamento nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, il gabinetto del Ministero dell'Interno, il prefetto di Imperia, il centro di cooperazione di polizia ed organale, il sindaco di Ventimiglia e la protezione civile. A scopo precauzionale i vigili del fuoco decidono di evacuare le abitazioni nel raggio di 200 metri dal convoglio. Chiusa nel tratto interessato anche la statale Aurelia che corre parallela ai binari, la macchina dei soccorsi funziona alla perfezione. La simulazione realistica ha permesso di verificare il flusso di allertamento e informativo del sistema, i tempi di arrivo delle risorse, l'attitudine alla cooperazione e al coordinamento dei soggetti responsabili delle varie attività organizzative e di soccorso, nonché la capacità di gestione dell'evento da parte dei responsabili presenti sullo scenario.